Un barbone di nome Lucio Ho incontrato quei personaggi nella fantasia, così Seneca, così Rousseau, piacevolmente accesi, nuovi, si liberavano, e poi Voltaire, Diderot e d'Alembert, tutti i figli di Socrate. E poi c'era un personaggio, un barbone di nome Lucio, che baciava la mano alle signore come un gentiluomo d'altri tempi. È veramente così. Certi uomini li incontri, solo a semaforo spento.